Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video Come avete visto nel video precedente Bedwell ha vinto la finale, terzo quarto posto E' arrivato terzo, lui Infatti dopo ci sarà un premio E non ti spoilerò Ottimo presentatore lui E quindi vi lascio qua sotto, o alla fine del video, il video della mia gara E ho organizzato dai 14 a 30 anni questa gara E ora vediamo, questi due qua dietro sono i partecipanti Di là c'è Filippo Montanelli e di là Andrea Marchetti In bocca al lupo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti 15 a 0 17 a 4 18 a 3 Allora ragazzi Filippo ha la palla che gli potrebbe di alzare la coppa del vincitore Vediamo Filippo Filippo prende la palla Grazie a tutti Grazie a tutti Un applausi Un applausi Un applausi